Vi racconto una fiaba. Ciao a tutti dei più grandi e più piccini, io sono Elisabeth e in questo video, come avete capito dall'inizio del video, vi racconterò una fiaba. La fiaba in questione, questa volta, sarà Ansel e Gretel. Io adoro questa fiaba, cioè è bellissima. E niente, direi subito di iniziare a raccontare. C'era una volta, in un gran bosco, un taglialegna, che non aveva molti soldi per sfamarsi. Riusciva sola a procurarsi del pane per sfamare la sua moglie e i suoi due figli, Ansel e Gretel. Però arrivò un giorno in cui non pote provvedere neanche a questo, e una notte sua moglie le disse. Ascolta, marito mio, domani mattina, all'alba, dai ad Ansel e Gretel due pezzetti di pane e lasciali camminare per il bosco. Noi non sappiamo più come nutrirli, sarà il meglio per loro. No, moglie, non ho il cuore per abbandonare i miei due bambini nel bosco e lasciarli poi da soli laggiù. Nel bosco ci sono così tante bestie feroci che possono sbranarli in un sol balcone. Ma la donna disse, ma se non lo fai, tutti quanti moriremo di fame. E non lo lasciò in pace finché egli non ha consentito. Anche i due bambini non potevano dormire per la fame. Quindi sentirono tutto il discorso della madre e Gretel si mise a piangere amaramente. Ma Ansel gli disse, stai tranquilla Gretel, provvederò io. Si mise la giacchetta e sgattoglielò fuori. La luna splendeva chiara e i ciottoli splendevano come monete nuove di zecca. Ansel si chinò e ne prese un po' e se li mise nella tasca. E tornò a casa. Tranquilla Gretel e riposa tranquilla, disse. E poi si mise a dormire pure lui. Ancora prima che sorgesse il sole, la mamma andò nella loro camera e disse. Alzatevi bambini, vogliamo andare nel bosco. Ecco qui due pezzi di pane per voi. Ma siate saggi, non consumatelo tutto, tenetelo per mezzogiorno. Iniziarono a camminare verso il bosco. E Ansel più volte si girò a guardare la casa. E il padre disse. Ansel, perché ti volti sempre e ti fermi? Su, muoviti. Ah papà, c'è il mio gattino bianco sul tetto che vuole dirmi addio. E la madre disse. Ehi sciocco, non è il tuo gattino, ma è il sole. Ansel però non guardava il gattino. Ma aveva buttato delle pietre nel suo percorso. Appena arrivati al bosco, il papà disse. Bambini, prendete la legna per il fuoco. Non voglio rimanere qui a gelare. Ansel e Gretel cercarono un po' di rametti secchi e ne presero un mucchio. E la madre disse. Ora sdraiatevi vicino al fuoco e addormentatevi. Io e papà andiamo a spaccare la legna in mezzo al bosco. Aspettate finché non vi verremo a prendere. Ansel e Gretel si misero accanto al fuoco e poi mangiarono il suo pezzetto di pane a mezzogiorno. Aspettarono fino a sera, ma la mamma e il papà non tornavano a prenderli. Quando la luna sorse, iniziarono a incamminarsi seguendo i loro ciottoli che brillavano. E arrivarono alla loro casa. Il padre si rallegrò a rivedere i suoi bambini, perché era dispiaciuto di averli lasciati da soli nel bosco. La madre finse di essere felice, ma in verità era furiosa. Ma pochi giorni dopo la storia ricominciò, il pane inizia a mancare in casa. Questa volta gli diedero il loro pezzo di pane e Ansel gettò dei pezzettini lungo la strada, come i ciottoli. Gretel pianse e Ansel le disse. Stai tranquilla Gretel, quando sorgerà la luna seguiremo i miei pezzettini di pane. Ma qualcosa andò storto, non c'erano più i pezzetti. Erano scomparsi. Saranno stati di sicuro gli uccellini del bosco, che le avranno beccate. Erano molto stanchi, così si addormentarono. E il giorno dopo si incamminarono di nuovo, ma non trovarono più la strada di casa. Il terzo giorno vi dero una casa. Una casa di biscotti, con le finestre di zucchero trasparente. E invece la seconda parte era pane ricoperto di focacce. Ansel disse. Ci sederemo qui e mangeremo fino a sazietà. Iniziarono a mangiare la finestra di zucchero. Ma ad un certo punto sentirono una voce che disse. Chi mangia la mia casa zuccherosa e salata? I bambini risposero. È il vento! Continuarono a mangiare e Ansel prese un pezzo di focaccia dal tè. Ma ad un tratto la porta si aprì e uscì una vecchietta. Ansel e Gretel si spaventarono, ma la vecchietta disse. Oh, cari bambini, come siete giunti fin qui? Venite dentro con me. Siete i benvenuti. Li prese per mano e li portò dentro casa. Fu loro servita una buona cena. Con latte e biscotti. Poi si corricarono nei due loro letti. Sembrava di stare in paradiso per loro due. Ma la vecchietta... La vecchietta era una strega cattiva. Lei attirava i bambini, costruendo la sua casa piena di dolci e focacce. Così per poi metterli in un forno e mangiarseli tutti. Era strana. Era una strega davvero cattiva, cattiva. E tutti i bambini temevano di lei. Infatti nessuno si avvicinava. Ma Ansel e Gretel non ne sapevano niente. La vecchietta si alzò prima dei bambini. E quando li vide dormire dolcemente, disse. Loro saranno un buon buon concino per me. La vecchietta prese Gretel e la mise in un forno. Ma non subito lo accense. Perché prima doveva fare la sua solita colazione. Ansel si svegliò. Vide che Gretel non era al suo fianco. E quindi si spaventò. La cercò per tutta casa, silenziosamente. E poi la vide dentro un forno urlare. Dicendo aiuto, aiuto. Ansel provò di salvarla. Ma la vecchietta era proprio a fianco. Quindi la distrò. Fece un po' di rumore fuori. La vecchietta corse subito, pensando che ci fossero altri bambini. Così Ansel ne approfittò per salvare Gretel. La prese per mano e scapparono subito di casa. La vecchietta urlava. Tornate indietro! Tornate indietro! Ma loro scapparono ancora più velocemente. Poi iniziarono a cercare di nuovo la loro casa. Passarono molti giorni. Affinché non videro una sagoma di una casa. Corsero subito. E voilà! Erano nella loro casetta. Il padre allegro disse. I miei bambini sono vivi, sono salvi. Entrate subito in casa. Perché lui non voleva lasciarli soli nel bosco. Era la mamma che voleva. La madre non era né felice né triste. Però accettò che anche loro erano in casa. Perché erano i loro figli comunque. Però il pane a casa comincia ad aumentare. E poi anche l'altro cibo. E quindi la loro famiglia diventò una famiglia benestante. Così che vi saranno tutti felici e contenti. Nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto. Che vi abbia un po' rilassato. Iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. E attivate qui la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. E ciao! Tanti abbracci! Grazie! Applausi! Grazie! 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 Grazie!